Adrenalina pura, bellissimo, sembra di essere con le moto grandi, vogliamo divertirci e non vogliamo farci male. Facile, sicura e veloce, ma più forte sicuramente è mio figlio, dopodiché il fatto di poter combinare la passione per tutti e due senza trascurare la famiglia credo sia top. Mi sono divertito un sacco da quando l'ho provata e fino adesso ho continuato a divertirmi. Mi piace andare solitario se sono primo o altrimenti stare nel gruppo e far bagare. Per me è la bagare, la cosa più bella. Qui vai forte subito, la guidi col corpo, devi guidarla forte, però più la guidi più ti diverti. Da padre a figlio, pelle d'oca alta così. Mi sentivo sicura con questa moto, infatti dopo uno o due turni avevo già il tinocchio a terra. È una moto che comunque appena ti sposti la moto ti segue, calibrata giusta, motore perfetto, una vera moto. Romani! 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 Romani!